Lo spettacolo sta per cominciare. Domani, venerdì 26 agosto, prenderà ufficialmente il via il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Parte una lunga maratona di eventi che si concluderà il prossimo 4 settembre. Arte, teatro, installazioni e laboratori saranno gli ingredienti principali di una kermessa concepita nel segno delle emozioni e che punta ad avvicinarsi al suo pubblico come forse mai aveva fatto in passato. Da qualche tempo stiamo vivendo, per così dire, un po' al risparmio. Viviamo una quotidianità difficile che ha risparmiato anche sulle emozioni. Noi come Festival quest'anno vogliamo ritornare a scambiarci e a confrontarci un'altra volta con le emozioni che possono scaturire dalla visione degli spettacoli o della semplice frequentazione, diciamo, dei luoghi di spettacolo. Un'edizione all'insegna delle novità e dei grandi ritorni. Abbiamo creato un ponte fra scienza, arte e tecnologia con la compagnia belga di, appunto, Hugo Dash, un coreografo informatico che porterà una sua personale lettura di come si può cambiare lavoro mantenendo, diciamo, una cifra artistica all'interno di questo nuovo lavoro. Poi c'è il teatro di figura, il teatro di figura nazionale e internazionale con la compagnia nazionale Zaches Teatro che lavora su Cenerentola, una Cenerentola dark, un po' fuori dagli schemi disneyani. Poi c'è, diciamo, la scheggia impazzita del festival che è la performa francese Olivier de Sagazan insieme, soprattutto, a un ritorno, un ritorno a casa di Gianni Forte, uno dei nostri amici più prestigiosi con Cittadino. Ci porta qui un progetto legato alla conoscenza di tutto quello che sta accadendo all'interno del sistema teatrale europeo. C'è solo da mettersi comodi e godersi lo spettacolo. L'obiettivo è quello, cioè quello di far nascere di nuovo dopo questi anni, diciamo, difficili la capacità e la possibilità di potersi reinventare delle emozioni, trasformarle, incontrarsi e connettersi, insomma, anche con tutti gli altri cittadini.